Cosa ne pensi di questa competizione elettorale, degli aspiranti sindaci? Un pensiero un po' blando il mio al riguardo, anche perché per me tutti i giorni delle votazioni se ne escono con tutto ciò che hanno da proporre, poi a votazioni passate contano i fatti e non ci sono quasi mai, Torre del Greco è abbandonata a se stessa. È la serie che i politici si vedono solo in campagna elettorale. Esatto, come sempre. Da giovane che richieste hai da fare al futuro sindaco? Una sensibilizzazione giovanile sul lavoro e su tutto ciò che abbiamo a disposizione nella nostra terra, perché se sappiamo gratificarlo noi potremmo campare di rendita. Quindi valorizzare le risorse? Valorizzare il territorio, le risorse, sì, perché siamo al centro del Golfo di Napoli, siamo la perla del Vesuvio, ed è un peccato veramente essere abbandonati a noi stessi. Penso che voterò verso Mennella. Lei pensa che Mennella possa essere il sindaco giusto per questa città? Fino adesso non ha mai stato sindaco, penso che potesse che qualcosa di buono farà, penso. Come cittadino quali sono le sue richieste? Un po' di pulizia in più, perché sta troppo uno schifo. Cosa ne pensa degli aspiranti sindaci? A me, guarda, in verità non mi piace proprio nessuno e non voterà proprio nessuno. Addirittura non va a votare? Non vado a votare perché ho visto che salgo uno, salgo, sono sempre i soliti per me. Oltre i sindaci sono anche gli assessori. Abbiamo un sacco di dubbi, oramai siamo molto sfiduciati rispetto alla politica, vorremmo una politica un po' più pulita e più vicina ai cittadini. Conosce gli aspiranti sindaci, quelli che si sono candidati? Qualcuno sì, gli altri non tutti, devo dire la verità. Non mi sono ancora posta a questo problema. Più in là sicuramente mi informerò prima di andare a votare. E da cittadina le sue richieste al futuro sindaco chiunque sarà? Torre del Greco, Torre del Greco ha bisogno di un buon sindaco. Non sono richieste personale, ma proprio di Torre del Greco. Secondo lei c'è bisogno di volti nuovi, di un rinnovamento o di un ritorno al passato? Se fosse un rinnovamento sarebbe auspicabile, specialmente un rinnovamento giovane, perché i giovani sono un pochino più avanti mentalmente, però sempre esperti della materia che vanno a trattare. Speriamo che fanno qualcosa per la nostra città, perché nella nostra città ci sono artisti, voi lo sapete bene, la nostra città è fondata sugli artisti locali e che ci padrono anche all'estero. Speriamo che fanno qualcosa di buono. Noi vogliamo votare, però devono fare qualcosa per la città. Pensiamo ai bambini, che veramente Torre dei Giovani, che veramente Torre del Greco, Torre del Greco è una città di cultura. È una città di cultura, quindi ha bisogno di una classe politica che valorizzi questo. Esattamente, vediamo chi va al potere, cosa faranno. Quelli che si sono candidati, che ne pensano? Io non li conosco, però penso che dobbiamo dare larghe i giovani. Se i giovani vanno avanti, faranno qualcosa. Tra meno di un mese si va a votare a Torre del Greco. Lei cosa ne pensa di questa competizione elettorale e degli aspiranti sindaci? Trovo ingiusto la persecuzione a Borriello. Cioè, per me è ingiusto che una persona non possa liberamente partecipare avendo l'accanimento di questa cosa, diciamo, che secondo me... Si riferisce al procedimento giudiziale? Sì, sì, esatto. Perché io sono un garantista e quindi fino a prova contraria. Però non è giusto che uno deve pagare. E se poi sarà innocente, che cosa facciamo? Io non lo ritengo giusto. Quindi lei voterà Borriello? Penso di sì. Ma non cambierà niente, sarà sempre la stessa cosa. Perché tutto questo disfattismo? Ma perché anni e anni, con la speranza di cambiare qualcosa, alla fine si è rivelato sempre che non è cambiato niente. Cosa deve cambiare? Cosa deve cambiare? Basta si guarda intorno e vedrà cosa deve cambiare. Tutto. Secondo lei? Questo è l'unico paese che non ha niente. Ognuno pensa sui fatti loro. Io non voto. Perché? È perché in questo paese abbiamo perso le speranze. Addirittura, detto da un giovane, fa male. Sì. Qua è... Perché hai perso le speranze? Non c'è niente su tutto e per tutto, per i bimbi, per gli anziani. Io vado a favore di Ciro Borriello. Perché? Perché almeno lui qualcosa ci ha fatto vedere. Secondo te, lui che cosa ha fatto per questa città? Qualcosa ha fatto? Innanzitutto parlo delle persone che quasi tutti quanti hanno messo il casco, perché prima è stato lui a scendere in piazza. È una persona sempre che sta in piazza, sempre stata in piazza. Ha lasciato un segno.